Sono riusciti a salvarsi dalle fiamme che si erano propagate nella palazzina uscendo immediatamente dopo aver visto una nube di fumo nera. L'intervento dei vigili del fuoco che hanno immediatamente portato le bombole di gas fuori dal palazzo ha poi evitato il peggio. L'incendio è accaduto la notte scorsa a meta frazione di Civitella Roveto dove quattro famiglie sono scampate al pericolo delle fiamme divampate nella canna fumaria della struttura devastando nel piano terra. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco dopo quattro ore di lavoro. Gli accertamenti dovranno verificare ora l'agibilità della palazzina. L'intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato per stalking alla ex moglie ha fermato i suoi ripetuti atti di violenza che fino a quel momento non avevano risparmiato niente a nessuno dall'amica della donna ritenuta responsabile della loro separazione al nuovo compagno e alla macchina della ex. Agli arresti domiciliari è finito un noto commerciante di Sant'Egidio alla Vibrata di 53 anni che dopo la separazione un anno e mezzo fa aveva cominciato a minacciare la donna con telefonate e messaggi su whatsapp ripetendo che le avrebbe sparato. Aveva preso a pugni anche l'amica di lei e di recente era arrivato ad affrontare il nuovo compagno della donna aspettando la sua uscita dal luogo di lavoro e orlandogli contro che l'avrebbe gambizzato. Le denunce della ex moglie hanno dato avvio alle indagini dei carabinieri che hanno rimesso un rapporto al PM della procura Greta Loisi. Il procuratore ha chiesto e ottenuto dal GIP la misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita oggi. Sospensione dell'uso degli impianti elettroacustici per uno stabilimento balneare della riviera di Montesilvano al confine con Pescara e la decisione del sindaco Francesco Maragno disposta con ordinanza. Il provvedimento segue una relazione fonometrica dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente sul controllo delle emissioni sonore di uno stabilimento balneare eseguita nelle notti tra il 15 e 16 settembre e 16 e 17 settembre dalla quale è emerso il superamento del valore limite. L'ordinanza sarà in vigore fino al rilascio di relazioni tecniche degli enti preposti sull'avvenuta o temperanza delle prescrizioni. In sostanza il legale rappresentante dello stabilimento balneare dovrà produrre adeguata documentazione sugli interventi eseguiti per abbattere le emissioni sonore e la valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente con cui sia dimostrata l'efficacia degli accorgimenti adottati. La documentazione dovrà essere accertata anche dall'Arta e dall'Asra. Ancora un trionfo per il tiro a volo italiano. La 21enne Alessia Jezzi, carabiniere originario di Manopello, ha vinto a Nuova Deli la Coppa del Mondo della Fossa Donne. L'Azzurra, campionessa del Mondo Junior due anni fa a Lonato, ha conquistato il pass per la mancia decisiva con un ottimo 72-75 delle qualificazioni e poi ha superato tutti gli sbaramenti fino al duello per il trofeo di Cristallo con un'atleta spagnola irridata 2015 a Lonato. Ma la Jezzi, malgrado un piccolo taglio all'indice della mano destra causato da un movimento maldestro sul grilletto, non ha ceduto. Chiusi i piattelli regolamentari con l'identico punteggio di 41-50, le due hanno proseguito con lo spareggio vinto dall'Azzurra per 2-1.